Si è conclusa con 5 arresti l'indagine della Polizia Locale di Trieste tra gruppi di giovani migranti che gravitavano attorno a Piazza Libertà. I 5 dovranno rispondere di atti persecutori aggravati nei confronti di un giovane extracomunitario che avrebbe subito aggressioni, minacce e molestie. Gli accertamenti degli agenti sono iniziati a fine settembre dopo l'arresto per rapina in Piazza Libertà di un cittadino afgano di 35 anni e di un pakistano di 31. Le informazioni acquisite dalla Polizia Locale nei giorni successivi delineavano un'articolata serie di comportamenti delittuosi in capo ai due arrestati insieme ad altri tre uomini, ovvero un cittadino afgano di 33 anni e due pakistani di 31 e 18. I 5, gravati di precedenti di polizia e coinvolti i recenti risse nel centro cittadino, avevano formato una banda che agiva compatta tra i migranti della piazza con atteggiamenti intimidatori. Un giovane extracomunitario, vittima di continue vessazioni, che gli avevano procurato un costante stato di ansia e paura per la propria incolumità, tanto da dover abbandonare l'istituto professionale a cui era iscritto ed evitare di uscire da solo, aveva trovato il coraggio di confidarsi con il suo tutore, il quale si era rivolto a sua volta alla polizia locale. Attraverso la testimonianza del ragazzo, confermata anche da altri migranti, gli investigatori hanno raccolto elementi a carico della banda per una serie di presunti episodi intimidatori che hanno quindi portato all'emissione delle misure cautelari.